Sarebbe partita dal fallimento di una società di Novoli in provincia di Lecce l'inchiesta che vede al centro le società della famiglia Matarrese. L'ipotesi al vaglio della procura è quella di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Le indagini riguardano il fallimento di alcune società i cui capitali sarebbero stati spostati in altre società satellite. Una società questa che era fornitrice di materiale da costruzione alle altre società del gruppo Matarrese. La Icon, posta in liquidazione, sarebbe stata dichiarata fallita nell'aprile scorso. In contemporanea però, pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento, sarebbe nata la società Sodelva SRL, acquisendo le intere quote di partecipazione della Icon. Nell'inchiesta è stato indagato un 61enne di surbo che compariva come amministratore unico e legale rappresentante della Sodelva. Una società questa che, secondo le fiamme gialle, risulterebbe inattiva. L'altro salentino indagato è un commercialista di 54 anni, residente a Lecce, amministratore unico di due società baresi riconducibile Matarrese. Il terzo salentino, finito nel registro degli indagati, è un noto imprenditore di surbo. L'Icon SRL in liquidazione, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbe ceduto ad una società dell'imprenditore surbino 5 terreni agricoli per 45.000 euro l'uno. Oltre ai terreni, sarebbero stati spostati da una società all'altra anche tre autocarri e due semi di morchi. Tutti gli indagati salentini sono difesi dall'avvocato Antonio Savoia. Ovviamente queste le accuse che dovranno essere dimostrate e discusse nelle serie opportune.